L'apertura del nostro notiziario per parlare dei dati relativi all'emergenza sanitaria con il bollettino sanitario di questa giornata. Rispetto a ieri, allora vi diciamo che si registrano oggi 174 nuovi casi di età compresa tra 1 e 98 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2.422. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61.506 dimessi guariti che sono 173 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 8.162 più 1 rispetto a ieri. I tamponi molecolari effettuati sono stati 4.385 e gli antigenici 1.905. Il tasso di positività su questi numeri dei tamponi è dunque pari al 2,8%. 320 pazienti, meno 15 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 29, meno 1 rispetto a ieri, con un nuovo ricovero in terapia intensiva. Mentre gli altri 7.813 più 17 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. La provincia che oggi ha fatto registrare il maggior numero di contagi è quella di Chieti con più 80, seguita dalla provincia dell'Aquila, più 46 rispetto a ieri. Poi la provincia di Teramo, più 45 e infine la provincia di Pescara con un più 2 nuovi casi di positivi al Covid-19.